Buonasera, sono Giuseppe Sabino, chef del ristorante I Binari, un ristorante storico che si trova di fianco alla stazione di Porta Genova a Milano. Ecco, questo ristorante qua viene rilevato dalla famiglia Denti nel 1972. All'origine era una vecchia bocciofila dove i ferrovieri venivano a passare la serata. Cucina prettamente tradizionale, difatti i nostri piatti vanno dal classico orso buco ai Mondeghili, al risotto alla milanese al salto, con alcuni piatti mediterranei tipo il turbante di branzino con un guazzetto di mare, abbiamo uno strudel di pasta a filo con funghi porcini e tomino fondente. Il nostro piatto di battaglia è il filetto incrosto, il cosiddetto filetto alla Wellington. Tutti i nostri prodotti, dalle paste ai dolci, sono tutti fatti in casa. Anche i nostri dessert sono abbastanza tradizionali, si parte dalla classica torta di mela, alla tartatena, alla torta di mela di pera e cioccolata, ma i più gettonati, più particolari sono l'isola galleggiante che è una meringa cotta a bassa temperatura che viene servita con della crema inglese. Poi anche tutta la pasticceria Mignon, dai vari cannoli, biscotti secchi, tartufi, tutti fatti di produzione nostra, lo chef Giuseppe Sabino e lo staff dei Binari vi aspettiamo per provare i nostri piatti. Buonasera. 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 Buonasera.